I numeri raccontano di un raddoppio delle start-up innovative sul territorio negli ultimi otto mesi. Erano 2000 quando prese il via il corso di specializzazione promosso dall'Ordine dei Commercialisti di Napoli. Oggi sono 4000 iscritti al registro della Camera di Commercio. Il mondo delle start-up è in continua evoluzione e al sud ci sono numerose imprese che stanno nascendo, che sono già nate e hanno saputo affermarsi. Così Vincenzo Moretta, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, nel corso del forum l'ecosistema start-up, specialist in start-up di impresa. La capacità imprenditoriale ma soprattutto le idee dei grandi progetti, guarda caso, nascono sempre dal sud. C'è voglia di fare, c'è tanto entusiasmo e noi dobbiamo assolutamente sostenere queste piccole iniziative che poi possono diventare grandi esperienze e possono sicuramente essere un volano per l'economia nazionale. L'Ordine ha organizzato un corso sulle start-up articolato in 17 incontri, ai quali hanno partecipato docenti provenienti da tutta Italia, commercialisti, avvocati, broker assicurativi e analisti finanziari. Presente Amedeo Giurazza, presidente della Commissione Finanza Straordinaria dell'Ordine. Questo corso che abbiamo articolato in 17 incontri di 4 ore l'una ha avvicendato ben 64 docenti, 44 dei quali vengono da fuori dalla Campania e che hanno portato le loro esperienze. A servizio più delle start-up, dei commercialisti che devono assistere alle start-up. Cioè abbiamo voluto dare con questo corso una serie di informazioni, di conoscenze ai commercialisti per far capire loro che è molto importante stare vicino alle start-up che diventeranno le aziende del futuro.